story time evoluzione radio appassionati di storie racconti ben trovati da Gianluca Ruoppolo nel salotto di story time quest'oggi andremo alla scoperta di un progetto e lo faremo attraverso la voce del suo founder nonché owner sto parlando di Sean Balaish ciao Sean nice to meet you ciao Gianluca good to see you today è davvero un piacere tutto nostro averti qui nei nostri studi Sean accompagnato quest'oggi da un interprete sto parlando di Anna la nave ciao Anna ben trovata ciao ciao Gianluca grazie grazie mille a te per averci raggiunto allora il progetto si chiama milan fashion tour iniziamo prima dal conoscere meglio il nostro Sean che tra l'altro anche un modello evidentemente allora can you please introduce yourself to the audience sure nice to meet you everybody i'm really happy to be here today my name is Sean Balaish from Tel Aviv I'm the owner of milan fashion tour and the founder as well Sean ringrazia tutti per essere qui oggi si chiama Sean Balaish di Tel Aviv ed è il fondatore e il proprietario della milan fashion tour allora how did you start your career in fashion sector so it's actually really big story you will not believe my story you know I born to a family that my family was really famous football player and my mom was a fashion designer and then my family become orthodox okay so I was not allowed to go with my dream and then because I became orthodox I always dream to be a model I always dream about the fashion world and then you can translate them in Italian so I continue la storia di di Sean è molto interessante veramente una storia complessa viene da proviene da una famiglia di Tel Aviv che di gioco calciatori e la madre era una fashion designer a un certo punto la famiglia è andata verso l'ortodossia e quindi questo tipo di tematiche più frivole magari erano un attimino più messe in secondo piano mentre lui aveva sempre in sé il desiderio di diventare comunque un designer o far parte dell'ambiente della moda era interessato da questo argomento quindi era sempre lì comunque attento a queste tematiche and then I always try to do what I like in this fashion you know so always when I was going to school I was dream to be something to do like big things with fashion but I was not able to do it because my family isn't orthodox and then when I grow up when I'm on the school of orthodox people I start to live a double life like I was modeling in the side and my family and my school didn't know about it infatti già quando andava a scuola aveva questa questo interesse verso l'ambiente della moda e viveva questo conflitto perché ha frequentato una scuola ortodossa quindi doveva vivere segretamente un po questo suo interesse e a un certo punto quando è diventato un po più grande ha iniziato addirittura a frequentare dei fashion show quindi delle delle sfilate e faceva il modello di nascosto del resto della sua famiglia quindi viveva questa doppia vita and then when I was trying to do a modeling in Israel Tel Aviv all the agency was very difficult to take me was like they didn't give me the possibility to do modeling then I arrived in Milan Milan opened for me the doors and I was getting the biggest agency in Italy and I will start doing a big brands and campaign like Giorgio Armani Dolce Gabbana so that moment I realized that I am on the right way and me and fashion is a big love in the paradise yes in tanto infatti fin tanto che è rimasto a Tel Aviv ha vissuto costantemente questo conflitto fra il suo desiderio e la sua educazione ortodossa quindi anche le agenzie di Tel Aviv erano sempre molto resti ad affidare gli ingaggi per questa duplice diciamo situazione da un punto di vista diciamo della della sua storia del suo background familiare quindi a un certo punto è arrivato a Milano e qui a Milano finalmente ci sono si sono completamente aperte le le porte della del settore della moda e ha iniziato a lavorare per stilisti del calibro di Giorgio Armani di Dolce Gabbana i quali gli hanno dato la possibilità appunto di esprimere questo suo lato più creativo e più insomma di estruso dai estruso ed è questo il motivo per cui lui è così legato all'Italia e agli italiani perché è stato qui che lui ha scoperto ha potuto constatare che il suo sogno era possibile e che gli hanno soprattutto qui a Milano dato la possibilità di perseguirlo esatto tra l'altro Milano è la città proprio delle opportunità sì certo esatto e così è stato tra l'altro loro ieri sera hanno partecipato a un evento importantissimo da loro stessi organizzato ovviamente si chiama Milan Fashion Tour ovviamente ci sono stati grandi personaggi make up artists, hair stylists and fashion designers ecco era la sesta edizione ieri sera giusto? Sì sì la sesta edizione quindi chiediamo a Sean what do you like to tell us how was the show yesterday? oh my god like you know it's my first interview today after the show the show was incredible it was amazing we didn't accept so many people but we have more than 700 guests at the show it was huge and we have a big celebrities from Tel Aviv also we have Raffaella Fico at the show we have top models and we have a lot of important guests from Camera Della Moda, Vogue and all the biggest agencies was in our show so it was fantastic 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 quindi sì e beh lo show è stato fantastico è stata una situazione veramente molto bella c'erano oltre 700 partecipanti ospiti invitati alla sfilata si trattata di una sfilata a cui hanno partecipato anche delle celebrità provenienti da Tel Aviv italiane c'era Raffaella Fico c'erano rappresentanti della Camera Della Moda di Vogue quindi veramente una situazione emozionante questa oltretutto è la prima intervista che lui fa dopo lo show e quindi è ancora nella scia della piacere dell'adrenalina sì sì ok e poi è stato fantastico perché ogni volta che stiamo facendo le show più persone sono venute e il supporto è incredibile quindi mi fa sentire che non sono in modo da dire e sono davvero felice e mi fa sentire e mi fa sentire la mia voce è un po' dopo l'esterno ma è stato davvero incredibile fantastico quando si riceve questo tipo di riscontro da parte del pubblico con la presenza e l'entusiasmo ci si convince che si è appunto sulla giusta strada per raggiungere e perseguire i propri desideri e i propri sogni poi ero talmente entusiasta ieri che oggi ho una voce rauca un po' bassa sono ancora un po' diciamo provato e poi abbiamo tutti i cilindri anche nel show che vengono da Tel Aviv, da Miami siamo tutti a Nix Hotel in un grande gruppo con tutte le squadre ho circa 100 persone che vengono da Tel Aviv per questo show ah bello e fra gli ospiti c'erano anche persone che venivano da Miami oltre che da Tel Aviv in Israele pensate che soltanto da Tel Aviv arrivavano oltre 100 persone in massa solo per partecipare a questo show quindi veramente una partecipazione incredibile complimenti allora sono stati trattati ovviamente temi a cari ovviamente al nostro Sean come ovviamente la non violenza sulle donne la non discriminazione, l'uguaglianza di genere ma anche temi legati alla LGBQT Plus quindi vorrei chiederti Sean what is your message to the audience in this sense? the most important, at this moment you know my message to the world that fashion connect everyone we are not thinking about politica, we are not talking about where are you from or what are you doing you know fashion connect everybody so the show was connected people from Israel, from Palestine, Muslims, Jewish, transgender everyone living in peace together in one project so my message is that Milan Fashion 2 is for everybody who ever dream and fashion connect all of us to live in peace and love il messaggio che desidera dare è che la moda è un strumento per unire i popoli indipendentemente dalla loro provenienza geografica, dal loro credo religioso, dal sesso eccetera la moda mette in connessione persone che hanno stessi interessi, stessi sogni e fanno insieme creano uno show, una spilata dove tutti sono liberi di esprimersi senza costrizioni su visioni dovute a visioni politiche, religiose ieri c'erano insieme musulmani, ebrei, cattolici, transgender, gente che proveniva da altre nazionalità quindi veramente questo è il messaggio che dà la moda la moda è unione dei popoli indipendentemente dalle caratteristiche dei singoli esatto, la moda è anche l'arte che unisce e la cosa più importante del progetto è che noi connessiamo tutti e il progetto, se hai un sogno, puoi essere parte di questo quindi voglio dare la speranza alle persone che vogliono perché quando inizio la mia carriera nessuno mi dà speranza e voglio dare la speranza alle persone per i sogni e se posso aiutare, questo è il mio più grande sogno perfetto, vai al volo quindi la finalità di questo progetto è appunto dare voce e dare speranza a quelle persone che hanno un sogno che non riescono a realizzare in questo settore chiaramente che è il settore in cui io per primo ho sperimentato appunto la difficoltà di emergere di riuscire ad esprimere le mie passioni e ovviamente è molto difficile senza dubbio salutiamo anche la co-founder, giusto? salutiamo Sigal? sì, certo, certo Sigal è la parte, la donna è tutto nella nostra vita quindi è l'altra squadra e è meraviglia e anche una cosa più importante abbiamo il magazzino di Milano Fashion Tour che riprendiamo ogni volta, ogni progetto 100.000 copie ed è l'editazione del Vogue editor di Cris e tutti i progetti che sono in una settimana saranno nel magazzino saranno in Tel Aviv, Dubai e Italia sì, ok ok, sì, sicuramente presentiamo la Sigal Mann che è la co-fondatrice del Milan Fashion Tour e lei è la parte femminile di questo progetto le donne sono tutto nella nostra vita solo e lei è sicuramente una membro importante del nostro team inoltre noi stampiamo anche una versione del formato magazine sì, una rivista del progetto ogni anno e quest'anno si è tenuto a Milano e viene pubblicato appunto dalla casa editrice Vogue inoltre 100.000 copie per ogni edizione quindi veramente una produzione importante e anche è stata pubblicata chiaramente anche la versione di quando si è tenuto l'evento l'evento a Dubai e a Tel Aviv anche lì abbiamo pubblicato questa rivista benissimo, che dire, quest'oggi dunque siamo andati alla scoperta di questo meraviglioso progetto Milan Fashion Tour presentato quest'oggi dal suo fondatore nonché proprietario il qui presente Sean Balaische Sean, un saluto e alla prossima grazie Gianluca è stato un enorme piacere grazie, grazie è stato un piacere ciao a tutti Storytime Evoluzione Radio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti